Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Per rientrare nel mood, per iniziare, e ho voluto iniziare da questo poltergeist che è Pixar, è presente solo nei libri, non nei film, così come citazione. Quello di cui volevo parlarvi è che cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto riguardo Hogwarts Legacy. Secondo me Hogwarts Legacy è stato un plebiscito che lo ha eletto a gioco di successo ed effettivamente, per quanto riguarda un appassionato di Harry Potter, visivamente il gioco è veramente eccezionale. Abbiamo il castello praticamente in scala 1 a 1 e mentre prima non sapevo distinguere le varie torri, ora che ci ho giocato, quindi non vedendole solo nel libro, nei libri, leggendole nei libri, guardandole nei film, ma giocandolo sono riuscito a capire dov'è cosa, insomma, dov'è la torre d'astronomia, dov'è la torre delle case, insomma, dove sono i vari luoghi etipici della saga. Diciamo che il gioco non è esente da criticità e io quando vidi i primi voti ci rimasi un pochino male, mi aspettavo di vedere un 9 per mettere, diciamo, un po' l'anima in pace da quello che era una spesa che io avevo già messo in preventivo, che avevo già, anzi, anticipato, perché l'avevo preordinato. E i voti erano 8, 8 e mezzo, qualcuno gli ha dato 7.8, insomma. E dopo un 25 ore, e più o meno sono a metà trama, ho sbloccato quasi tutti gli incantesmi, io cercherò di non dire nulla riguardo alla trama. La trama è una delle cose che sono più interessanti tra tutte, insomma, è la cosa più interessante. Gli scorci, adesso siamo passati di stagione, diciamo, è autunno inoltrato, si vedono i primi cambiamenti al paesaggio. Il gioco ha dei difetti che, secondo me, mi fanno dire che è un peccato. È un peccato, ma, insomma, adesso non so nemmeno io da che parte, a dire la verità, cominciare. Per un fan è senz'altro bellissimo, bellissimo, e potrebbero farci anche dei documentari usando, adesso sta piovendo, la mattina presto sta piovendo, però potrei anche solo venire qui e farvi vedere, che nel film si vede solo uno spezzone, nel libro ce lo si goda un pochino di più, quello che è il primo viaggio. Lì sopra c'è la stazione, lì c'è la ferrovia, vedete quel ponte, dove arrivano gli studenti all'inizio anno scolastico. Quelli del primo anno vengono portati tramite un sentiero a questo molo, e da questo molo partono in barca. Mentre i loro colleghi, gli studenti più grandi, partono con le carrozze, loro viaggiano in barca fino non qui, dove c'è il deposito delle barche, ma qua, qua dove adesso non si può entrare, dove c'è un porticciolo all'interno della montagna, poi con un ascensore salgono, escono da qui, vedete? Escono da lì e vengono portati nella sala grande. Sala grande che è la zona più famosa dei film e della saga, perché è dove, vedete qua salgono e qua in cima erano messi tutti qui, la McGannit arriva, gli dice voi dovete andare, Malfoy si presenta a Harry Potter, insomma, e così via. E qua entri, entrano, qua ci sono gli studenti, qua se ne parlano in pari solo nei libri, queste eclesidre mostrano i punti delle varie case accumulate, quindi quando dicono tot punti, 50 punti di griffondoro salgono i punti in queste eclesidre, quindi vedete le quattro case. E andando avanti c'è, via via, anticamera dopo anticamera, c'è la sala comune di dove si mangia. E qua è mattina, quindi tutti fanno colazione, mangiano qualcosa, ci arrivate la sera, tutti cenano e la notte è qua praticamente deserto. Io mi sono ritrovato qui perché passavo per raggiungere un altro luogo, dopo si è fatta notte e sono tornato qui ed era completamente vuota. Ora passiamo, cioè, fatta questa premessa che il gioco è stupendo da questo punto di vista, mi sono preso anche un pomeriggio intero per esplorare tutta la scuola, non lo so ancora a memoria, ma perlomeno mi so muovere molto meglio di prima. Ci sono tanti luoghi nascosti e tante cose da scoprire. Tuttavia, e qua arriviamo alle criticità. Le criticità sono riguardo agli oggetti e alla natura che cerca di essere una natura del gioco di ruolo. Nel senso che voi avete gli oggetti che hanno colori diversi in base alle caratteristiche, se sono straordinari, classici, rari, eccezionali, insomma, queste caratteristiche qui, e li potete equipaggiare, man mano poi li cambiate salendo di livello. Non c'è nulla, da quello che ho visto, di livello epico o un oggetto leggendario. E non intendo il flag leggendario sull'oggetto, ma intendo un oggetto unico. Cioè, il classico, non so, il guanto del poltergeist, non c'è. Quindi, un gran peccato è, se io, vedete, ecco, adesso capita giusto, giusto, giusto. Io faccio una scansione, vedete che trovo questa pergamena. La pergamena è molto bella perché vi spiegano le varie parti di Hogwarts e sono molto utili per scoprire le parti della scuola. E ce ne sono un tot da trovare, adesso li devo trovarne 50, ma in realtà prima ne ho dovuti trovare 5, 10, 20 e adesso 50. E sono in totale, mi pare, 150. Ma mettiamo caso. Io, tanti enigmi sono veramente molto belli, molto ispirati, perché dovete risolverli andando magari ad accendere cose per attivare passaggi o scansionando trovate delle statue che si espostano, dei muri invisibili, dei quadri che non sono quadri. Molto bello, bellissimo da questo punto di vista il gioco. Tuttavia, una grande elusione per me, che è una delusione tuttora, è il fatto che quello che voi troverete in ogni segreto sarà semplicemente un oggetto random di quelli che trovate ovunque. E questo è un gran peccato, perché non ha senso che io trovi un passaggio segreto difficilissimo se poi all'interno trovo un oggetto random che poi, dopo due livelli, cambio, come faccio normalmente con tutti gli oggetti. E questa è una grande critica che io faccio a questo gioco. Ora, le attività da fare sono molteplici, perché vi faccio vedere la mappa. Io la mappa adesso l'ho vista in gran parte. Quando sbloccate la scopa vi godete molto meno il viaggio, perché non andrete più a piedi. Però vedete che sulla mappa ci sono degli eventi. Ad esempio, troverete i covi dei banditi, uccidete i banditi, ottenete la spunta e l'avete fatto. E all'interno di una singola mappa vi vengono dette tutte le cose che ci sono che vedete lì in alto a destra. Fate questo, fate quello, fate quell'altro. Insomma, qui battete i nemici, c'è il forziere, con i classici oggetti. Qua ce n'è un altro. Poi trovate le tanne degli animali, perché gli animali magici sono catturabili e li potete mettere, poi li andremo a vedere, nella vostra stanza delle necessità. Ci sono le cripte del tesoro, anche qui la risolviamo, troviamo un oggetto alla fine. Oggetti che possono essere appunto gli oggetti che vi ho fatto vedere oppure gli unici che ci sono sono ricette di crafting per particolari mobili che potete costruire o per dei tratti che potete sbloccare per poter craftare dei potenziamenti per i vostri oggetti. Ecco, questo è un grande peccato perché in un gioco del genere, con un sacco di enigmi ambientali. Adesso io qui sono alla stazione, questa si vede pochissimo nei film, a parte inizio e fine, scusate. Qui la strada che fanno, dove vanno, verso la scuola. Bellissimo. Cioè, niente da dire. Poi ci saranno le mount volanti, non le ho ancora sbloccate. Adesso queste sono altre cose. Ci sono, diciamo, gli enigmi di Merlino, che anche lì sono tutte cose che vi danno a loro volta delle cose. Ad esempio, gli enigmi di Merlino sono degli enigmi ambientali. Li trovate, adesso noi siamo qui, c'è un enigma, questi qui, di prove di Merlino. Una volta che li avete fatti tot, vi sblocca più spazio in inventario. Quindi sapete che quando trovate gli enigmi di Merlino, avete ogni tot, ve lo segna poi sulle sfide, io adesso non ve lo faccio vedere per non spoilerare, ne fate due, avete quattro slot in più in inventario. Ne fate altre dieci, avete altri cinque slot in inventario. E così via. E così lo sapete. Sapete che quando ottenete tot pagine delle guide pratiche, sia della scuola che di altre zone, ottenete quell'oggetto, quel tratto, quegli oggetti. Avete gli animali, ogni tot animali, ottenete quel vantaggio. Scoprite i punti di teletrasporto, vi teletrasportano più rapidi. Avete i planetari, quindi avete modo di osservare il cielo e trovare le costellazioni con il telescopio. Quello è il simbolino qui della Luna. In questo caso ottenete, ogni volta che ne ottenete, ne sbloccate un tot di risolverte l'enigma, ogni tot, avete quel premio lì. Che è sempre comunque un oggetto di quelli delle ricette, o un oggetto a random. Però, questo snatura tantissimo il gioco, perché non vi dà quella grande motivazione ad esplorare. In compenso, la storia va avanti piuttosto bene, perché avete tante queste da fare, non sono eccessivamente difficili. C'è un po' quello sfondo di gioco, che io definisco un po' gioco alla Disney. Dove, comunque lo fate, tranquillamente, non c'è nessuno che vi mette fretta, però, ripeto, è un peccato. Adesso vi faccio vedere la stanza delle necessità, così vi faccio vedere qual è la parte più, diciamo, sandbox che ho visto nel gioco. Adesso scendo, intanto il treno non passa. Andiamo là, e vi faccio vedere. Premendo sulla scuola, avete modo di accedere alle stanze nascoste e ottenete questa. La stanza delle necessità vi permette di arredarla come volete, ma soprattutto di piazzare dei tavoli. I tavoli da lavoro servono per craftare, coltivare soprattutto, e craftare pozioni. Quindi voi raccogliete dai vari mercanti, adesso vi faccio vedere un vaso di quelli grandi. Vedete qua, io posso andare a svuotare il vaso e scegliere cosa mettere, ma in tutto il gioco ci sono otto piante. Basta. Alcune vanno in un vaso grande, alcune in un vaso medio, alcune in un vaso piccolo, insomma, e decidete cosa piantare. E questo ha un tempo di crescita che va dai 5 minuti ai 10, no, dai 10 ai 15, ho visto. E potete fertilizzare, vero? Però non c'è questa grande scelta, cioè una volta che voi coltivate, andate a raccogliere poi, la pianta ricomincia a crescere. Potete andare poi col tavolo di fertilizzante a ottenere altre cose, tipo i fertilizzanti. Avete i mobili che vi producono randomicamente un oggetto, una pianta, un fiore, insomma, qualcosa. Qua potete identificare gli oggetti che avete trovato e di cui non sapete nulla. E all'interno di questa serra qui accedete in un mondo, sempre all'interno della camera dell'aggressità, dove mettete, liberate, gli animali che avete trovato in giro. E ce ne sono tot. Ogni oggetto, scusate, ogni animale, quando voi lo avvicinate, potete andare, con le vostre abilità, a lavarlo. Dopo averlo lavato, vedete che si riempie il rombetto del cuore. Gli date da mangiare e vi fornirà, poi, adesso gli do da mangiare, vedete che gli spunterà il mangime. Potrò farlo anche con l'altro. E ogni oggetto che avete raccolto vi dà un altro oggetto di crafting. Ho ottenuto il pelo di puffskin. Il pelo di puffskin, così come tante altre cose, le potete usare qui al telaio per scegliere se potenziare un oggetto. Ad esempio, ho questo oggetto qui, posso o vedere le caratteristiche, quindi andare a dargliene alcune, spendendo, appunto, quelle che vedete in basso a destra, le risorse. Oppure andare a potenziarlo semplicemente da uno a dare potenziamenti, spendendo anche qui degli oggetti e dandoli più attacco o più difesa, dipende dall'oggetto. Quindi, anche qui, è un po' un mezzo peccato. È vero, vanno farmate queste caratteristiche qui. Cioè, vogliono dargli la protezione anfibia, che mi limita i danni di un certo tipo, vado e farmo, esploro e trovo. Però, secondo me, non lo so. Sono, non dico deluso perché il gioco mi sta divertendo, ma io l'avevo iniziato questo gioco con la prospettiva di giocarmelo a livello difficile, in modo da dovermi, magari, craftare un equipaggiamento. Però, non trovo la soddisfazione. Infatti, l'ho rimesso normale perché il combattimento è semplicemente, diciamo, reso più difficile, dato che i livelli dei nemici si adeguano al nostro. Quindi, non ha senso l'equipaggiamento che incontro, che crafto, almeno non così come speravo. E quindi, sono deluso da questo aspetto qui perché non ha quella feature da gioco di ruolo dove, se io trovo un passaggio segreto nella scuola, così come in giro la caverna segreta, come banalmente un Elden Ring mi insegna che io ho una caverna in una porta segreta, so che lì dentro c'è un oggetto interessante, bello, che mi sarà utile magari fino alla fine del gioco potenziandolo. Qua tutto questo purtroppo non c'è. Ci sono un sacco di altre chicche, perché qua vedete, addirittura potete leggere Pier Totur Locomotor, una frase detta nell'ultimo film. Qua c'è il professore che mi insegna, questa è un'aula che frequenteremo per le lezioni. Insomma, io adesso non so se sono invecchiato male io o cosa, ma purtroppo non riesco più a godermi i giochi come facevo una volta o probabilmente sono sovercchiato dalle aspettative che ho di un gioco. Sarebbe stato bello vedere un combattimento magari un po' più alla Forspoken, per parte che il gioco poi aveva solo quello, il combattimento Forspoken, poi mancava sotto tutto il resto. Ma guardate che roba. Però alla fine dà soddisfazione il gioco, perché si trovano tante cose da aprire, da scassinare, delude un po', perché poi all'interno sapete che trovate il classico forziere, dove all'interno ha o una pozione, o un oggetto a caso, o un mobile, insomma un potenziamento. Basta, finisce lì, non c'è nulla di unico. Il resto è tutto bellissimo da vedere, sono stupendo. Il combattimento è lignosetto, devo dire la verità. Avete i vari slot con cui potete lanciare gli incantesimi. Però ecco, diciamo che il gioco è studiato per... Cioè, condivido anche il fatto che non potete essere cattivi. Quello ci sta perché è una storia. Come ho già detto anche in Kingdom Come Deliverance, o tanti altri giochi del genere, non è studiato per farvi fare quello che volete. Anche GTA potete essere buoni finché volete, ma restate dei criminali, insomma. Però è un peccato. È un peccato perché mi sarebbe piaciuto averlo un pochino più di natura gioco di ruolo. Poi ovvio, io non sto criticando il fatto che manchi il quidditch, perché lo condivido la mancanza del quidditch. Perché il modo in cui si vola con la scopa non è proprio la cosa più comoda del mondo. Ci si abitua, ma pensare di farlo in una partita movimentatissima non si può. E quello sono d'accordo. Ad esempio, non lo so, se io vado qui, che cosa c'è qui dentro? Cosa c'è qui dentro? Qui io non ci sono mai stato. No, c'è questo. Vedete, ecco, questa è una zona che non ho mai visto. Io so che quel forziere lì ha un occhio, quindi mi fa capire che devo aprirlo così. Lo scarsino, all'interno ci sono 500 monete. Quella, quel forziere lì, ha sempre dentro 500 monete. Fine. Trovassi qualcos'altro, ad esempio dentro lì, vediamo cosa c'è. Ma guardate le chicche, cioè il tubo per l'acqua, c'è bellissimo questo. Però io vado qui. Qui dentro ci sono degli attrezzi di tortura che poi, un po' alla sabacu potremmo dire, chissà che cosa facevano una volta qui. Qui non troviamo nulla. Ma avessimo trovato un passaggio segreto, così come un forziere, entrando avremmo trovato semplicemente un forziere con degli oggetti. Fine. Cioè non... ed è un grande, grandissimo peccato. Ecco questo, ecco vi faccio vedere. Da qui io non sono mai entrato. Io faccio Halo Mora, c'è questo minigioco. Niente di spettacolare. Devo girarlo finché vedo che ruota. Ok. E poi ruotiamo l'altro. Ok. Vedete che lo trovo. Si sgancia il meccanismo. E si apre. Ora, nessuno ci dice niente, però entriamo, riveliamo che all'interno c'è questo. 55 monete. Fine. Finita qui. Poi, io so che questo oggetto qui devo venire a prenderlo di notte, perché questo oggetto si illumina di notte e fa parte di un altro tipo di collezionabile, e di cui ce ne sono un'infinità, e che potenziandolo, prendendoli tutti, scusate, vi potenzia l'incantesimo di Halo Mora, quindi fa pagare i lucchetti di livello 2 e livello 3. Cioè vedete, sono tutte cose concatenate, che si legano una con l'altra, di collezionabili, che sono così, fini allo sbloccaggio di cose non indispensabili e che comunque non mi motivano così tanto a farlo. Adesso vedete, questo potrebbe essere un enigma, perché io accendo questi due, ma probabilmente non sarà così. Ma a volte sì, perché fate questo e magari sotto vi si apre una fessura nel terreno e aprite un passaggio segreto. Ecco, questa è uno dei mille, mila enigmi ambientali che potete affrontare. Poi l'esplorazione c'è, di cose da vederce ne sono, di quest da fare, magari ne trovate così per caso, vagando in giro. Però, ecco, volevo fare un video un po' diverso da tutti quelli entusiastici che si vedono in giro, perché ho voluto parlarvi delle cose che non mi sono piaciute, poi un gioco che io porterò avanti con estrema calma, e che finirò, questo sicuramente, perché sono appassionatissimo della saga di Harry Potter, ed è un sogno per me stare qui dentro e vedere tutto. E capisco anche quanto ha detto Dadobax quando ha detto, ok, mi sono sbagliato, pensavo avrebbe preso meno, ma trovo esagerato che Hogwarts Legacy abbia preso voti al pari di The Witcher 3. E da un lato io lo capisco anche, capisco anche cosa abbia voluto dire. Perché, in effetti, il risultato graficamente è notevole. La storia è molto bella, è un peccato per tutto il resto, lo dico per l'ultima volta, che lo fa più sembrare un gioco derivante da Disney, un gioco Disney, come tra l'altro gli sviluppatori sono, perché hanno già sviluppato giochi per la Disney, insomma. Ed è un peccato perché non chiedo le scelte morali, non chiedo mille e mille altre cose, il multiplayer, il quidditch, no. Probabilmente sarebbe bastato qualche oggettino unico da trovare, escludendo le ricette di crafting che trovate esplorando ogni anfarto del mondo. Perché guardate, piove e la strada comunque bagnata, cioè ci sono chicche da impazzire. Però so che ovunque io andrò in questo giardino, in questa esplorazione, troverò o nemici, faccio esperienza, o forzieri con dentro a random vari oggetti. Calcolate che una volta che sono morto cinque volte per far fuori un boss, e prima di questo boss c'era un forziere. In ognuna di queste cinque volte ho trovato un oggetto diverso. Quando ho battuto il boss, quindi non ho ricominciato, è stata la volta che ho trovato l'oggetto che mi interessava meno, che mi piaceva meno. Quindi, insomma, intanto ridendo e scherzando, siamo arrivati a Hogsmeade. Hogsmeade anche qui vi entrerà nel cuore, vi ricorderete tutti gli oggetti. Vedete un sacco di eventi che comunque non ci interagite, però vi immergono. Ed è una cosa che questo gioco fa benissimo, l'immergervi nell'atmosfera. E' questo assolutissimamente. Ci sono un sacco di cose interessanti che mi fanno anche sorridere. Ad esempio, passate vicino al negozio di dolciumi e vedete questi zuccheri filati animati che saltellano sulle vetrine. Insomma, è veramente molto bello. Adesso siamo a tema Halloween, cose che non c'erano prima, perché adesso è Halloween. Guardateli là, eccoli là. Bellissimi. E tra l'altro ci sono i passaggi segreti che arrivano direttamente a Hogwarts, quindi come nel libro, come nel film. Quindi è quanto di meglio un fan si potesse trovare in un videogioco? Assolutamente sì. Il gioco non rimpiango quanto l'ho pagato, perché li vale. Volevo solo fare una riflessione in modo da, così, magari, discutere di qualcosa e vedere quanti di voi magari si sarebbero aspettati un qualcosina di più motivante nell'esplorazione. Perché alla fine, ve la riassumo così, io devo trovare 20 pietre di notte, girando, scassinando stradature nella scuola, per ottenere, magari passandoci delle ore a farlo, per trovare il potenziamento a livello 3 dell'incantesimo che mi ha questo lucchetto, al cui interno di questa casa c'è quello e quello. Due forzieri, forse tre, no, tre, no, perché è là dietro. Sì, qua, tre, tre ce ne sono dentro, di cui all'interno c'è un oggetto a caso. Eccolo qui, questo è un altro. Questo contiene 500 monete. Giusto per darvi l'idea. Che mi vengono comode perché mi compro ricette, però, vedete, 500 monete. Quindi mi delude un po' sotto questo aspetto. Per il resto l'avete visto voi. Graficamente, l'immersività è veramente eccezionale. Ed è tutto tradotto in italiano. Quindi da qui nulla da dire. Volevo solo fare un po' il polemico per un gioco in cui comunque ho aspettato tantissimo. Ci ho sperato tantissimo. Uno di quei pochissimi giochi che negli ultimi anni ho finito di scaricare e ho giocato subito. Cosa di solito faccio con molta più calma. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo mio ragionamento. E alla prossima. Ciao, ciao.